Principalmente con la bola c'è un po' di organizzazione e penso che è un miglior cammino per arrivare alla vittoria. Tanto negativa come positiva per quello sono al campo e la cosa migliore è pensare che abbiamo fatto una buona partita che l'Italia è in crescita con una vittoria per iniziare un campionato importante come l'Europa e dobbiamo essere tutti contenti questa sera perché abbiamo vinto. Qualità è perché sono equipi di grande qualità Qualche equipe di questo livello entrando e facendo bene il lavoro è molto difficile per l'altra equipe e può anche arrivare fino alla fine, perché non? Abbiamo una equipe che a mio avviso può competere non importa quale equipe in Europa e anche in Francia Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima